Ciao a tutti amici nero azzurri, buongiorno, buona mattinata, buon venerdì mattina. Ieri non ho fatto il video serale, ero a Roma, ho fatto il viaggio per Roma, sono qui per qualche giorno in vacanza, quindi ieri ho girato e non ho registrato il video, lo registro adesso per parlarvi della situazione che riguarda Stefan De Vrij e per allargare anche un po' il discorso alle novità sul caso Acerbi che in realtà arriveranno oggi e quindi le tratteremo magari nel video del pomeriggio e poi anche per parlare un po' di quello che sta succedendo anche intorno al discorso Zhang, Oktri, proprietà Inter. Iniziamo con la tegola che è arrivata dal ritiro dell'Olanda, non è la prima volta, è la seconda volta che De Vrij si fa male in questa stagione, era successo ai due olandesi contemporaneamente, De Vrij e Dumfries che erano stati fuori circa tre settimane, un mese entrambi, stesso problema di De Vrij che hanno accusato Lautaro, Di Marco, Chalanoglu, questo problema che credo anche Turam, questo problema agli adduttori, anzi senza credo anche Turam, questo problema agli adduttori, anche De Vrij si ferma con la nazionale olandese ancora prima di giocare alla prima partita, ieri è successo in allenamento, anche lui problema muscolare agli adduttori. Allora ragazzi, non so perché i giocatori dell'Inter abbiano tutti lo stesso problema, quando si fanno male, si fanno male in quella zona, è capitato invece magari ad Acerbi o a Bastoni di farsi male al polpaccio, per fortuna cose molto lievi, sono state fuori entrambi un mese circa, quando ti fai male al polpaccio seriamente rischi veramente di saltare metà stagione, abbiamo visto con Brozovic, abbiamo visto con Lukaku, abbiamo visto con Magnan, insomma quando capitano i polpacci, per fortuna nostra e loro Acerbi e Bastoni quando si sono fermati per problemi al polpaccio, si sono fermati in tempo e hanno saltato comunque un mese. Qui parliamo di adduttore, parliamo quindi di una cosa un pochino diversa, bisognerà capire l'entità dell'infortunio di De Vrij, che tipo di gravità di infortunio ha avuto l'olandese, abbiamo visto quando questa cosa agli adduttori è successa a Di Marco e a Lautaro, Di Marco e Lautaro hanno saltato due settimane di stagione, hanno saltato due partite e hanno poi ripreso a giocare come se nulla fosse e non hanno avuto problemi di recidiva, non hanno avuto ricadute e quindi è stato tutto gestito nella maniera migliore. Quindi c'è da sperare che il problema di De Vrij e l'aduttore sia un problema simile a quello che hanno avuto Di Marco e Lautaro ai tempi, che hanno saltato due partite. In più se a De Vrij fosse capitata la stessa cosa, lo stesso infortunio con la stessa entità di De Vrij, di Marco e di Lautaro, a quel punto De Vrij potrebbe addirittura pensare di tornare alla ripresa del campionato perché fortuna vuole che in due settimane, oggi è giovedì, l'Inter per quasi due settimane non giocherà, scusate oggi è venerdì, si è fatto male giovedì di De Vrij e quindi per due settimane non si gioca. È chiaro che per Inter Empoli diventa quasi impossibile, però già per la prossima partita diciamo che si può pensare di recuperare De Vrij sempre che l'infortunio di De Vrij sia della stessa stregua di quello che hanno avuto Di Marco e Lautaro. Facciamo un po' i conti, De Vrij si è fatto male ieri che era giovedì, venerdì, sabato, domenica, poi tutta la prossima settimana, sono dieci giorni, l'Inter giocherà di lunedì contro l'Empoli e quindi credo che quella sarà impossibile per De Vrij ma quella dopo ancora può darsi che recuperi. Perché dico, do delle tempistiche, soprattutto do delle tempistiche sui possibili ritorni delle partite, di quali partite, perché il discorso a Cerbi è strettamente legato al discorso De Vrij. Oggi avremo delle novità dalla Procura Federale sul discorso a Cerbi, però facciamo la chiarezza nel senso che a Cerbi e De Vrij sono i nostri due giocatori che giocano in centro alla difesa. Nella difesa tre, Bissec o Pavard, a Cerbi o De Vrij, Bastoni o Carlos Augusto. Il problema è che a Cerbi o De Vrij rischiano entrambi di non esserci contemporaneamente per due motivi diversi. De Vrij per l'infortunio, a Cerbi per quello che potrebbe succedere con il giudice sportivo e quindi con un'eventuale squalifica. A quel punto Inzaghi dovrebbe rivalutare tutta la sua fase difensiva, dovrebbe ripensare al ruolo. Sapete che lui ha i ruoli fissi, c'è la Noglu Aslani, Frattesi-Mighitari, Ambarella-Mighitari, Scusate, Frattesi-Mighitari, Ambarella-Fattesi, Acerbi-De Vrij, Bissec-Pavard. Quindi cambiando Acerbi-De Vrij bisognerebbe capire chi a quel punto può andare a fare il centrale di difesa. Mi viene da pensare Pavare in mezzo, Bastoni a sinistra, Bissec a destra, con Darmian, Jolly che rimane per girare intorno ai tre anche perché c'è Buchanan. Allora, la cosa buona è che mancano nove partite, che non sono poche ma non sono neanche tantissime e l'Inter gioca comunque delle partite che possono essere gestite. Se l'Inter è in forma, se l'Inter non cade in problematiche a livello fisico. Quindi vediamo perché secondo me Tanto De Vrij è tornato a Milano, tornerà a Milano, farà delle visite e si capirà l'entità di infortunio. Quindi questa è anche la cosa che bisogna sapere a livello medico. E poi dall'altra parte domani avremo dalla Procura Federale delle novità su Acerbi. Attenzione, la Procura Federale non darà la squalifica da Acerbi. La squalifica da Acerbi, se ci sarà, sarà data dal giudice sportivo, non dalla Procura Federale. Quindi può essere che domani avremo delle novità dalla Procura Federale ma non avremo la squalifica. Quella poi la darà il giudice sportivo. Quindi ragazzi, situazione delicata. Abbiamo comunque i giocatori sostituti per ovviare a questo problema, però insomma è una situazione per l'Inter inedita non avere il centrale di difesa. Quando non c'è stato Acerbi c'è stato De Vrij, quando non c'è stato De Vrij comunque c'era Acerbi. Insieme, contemporaneamente, i due fuori, ecco, out, non li abbiamo mai avuti. Do per scontato ovviamente De Vrij perché insomma l'infortunio all'aduttore può essere anche minimo ma una partita all'assalta. Non do per scontato Acerbi perché bisogna ancora capire se verrà ritenuto colpevole di quel fatto e soprattutto se verrà squalificato. Quindi attenzione al discorso Acerbi, lo attenzioniamo già oggi con quello che succede alla Procura Federale. Per quanto riguarda invece il discorso anche su Acerbi c'è da aggiungere una postilla perché ieri, prima di parlare di Zhang, ieri ha parlato anche Turam e lui ha definito normale il fatto che Acerbi sia stato mandato via per opportunità dalla Nazionale. Io credo che sia la cosa più ovvia, ve l'ho detto anche negli scorsi video, io credo che sia giusto. Sono d'accordo con Turam. In questo momento Acerbi deve pensare a questa situazione che è una situazione sicuramente grave e cercare di riabilitare il suo nome e di provare la sua innocenza. Dall'altra parte la Nazionale ha bisogno di fare un ritiro tranquillo senza problemi extracampo che possano influenzare Spalletti, le formazioni, le prestazioni, l'ambiente nazionale e il gruppo e quindi credo che, io l'avevo già detto prima di Turam e credo che Turam abbia ragione e abbia avuto ragione a dire quello che ha detto. È d'accordo con me, io sono d'accordo con lui. Per quanto riguarda invece Zhang, continuano ad arrivare queste voci della difficoltà che Zhang può avere con Octree di rifinanziare il debito. Ragazzi, io vi dico, delle voci su Zhang ormai siamo straabituati. Sono quattro anni che ci sono le voci sulla cessione, le voci sul dubbio del rifinanziamento, sulle difficoltà di Zhang, sul fatto che l'Inter andrà al PIF piuttosto che al finanziatore americano, piuttosto che poi alla fine rimane sempre Zhang. Quindi io vi invito solo con tutto rispetto per chi ha l'indiscrezione, le notizie eccetera. Io l'unica cosa che vi invito a fare è quella di ascoltare queste cose ma non darle per certe, perché sono tutte indiscrezioni che possono essere sicuramente buone e valide, ma sono indiscrezioni. Zhang ha voglia di rimanere presidente dell'Inter, ha voglia di rimanere proprietario dell'Inter, sta comunque trattando con Octree il limite il 20 maggio e credo che ci siano assolutamente i presupposti perché questo matrimonio tra l'Inter e Zhang vada avanti. Poi qualcuno di voi sarà contento, altri di voi invece non lo saranno, però insomma io prenderei con le molle queste cose che ciclicamente, soprattutto stranamente, quando ci sono le pause per la nazionale vengono fuori. Quindi calma e sangue freddo. Va bene ragazzi, comunque ci torniamo sull'argomento, magari già nel video di domani. Adesso vediamo se oggi vengono fuori delle notizie su Acerbi e cerchiamo di capire come affrontarle. Vediamo sul video di domani, di questo pomeriggio, cosa viene fuori. Perché se su Acerbi non viene fuori nessuna novità, magari ci concentriamo un po' sul discorso Zangook 3 e vediamo un po' come sviscerarlo. Se invece escono novità su Acerbi cerchiamo di commentarle. Ciao ragazzi, sempre Forza Inter, vi auguro una buona giornata, ci vediamo quindi questo pomeriggio tardo. Vi ricordo di schiacciare la campanella per avere la notifica dei video, il pollice in su se vi è piaciuto questo video e poi mi raccomando iscrivetevi al canale, io sono qua, mi fate felice. Sempre Forza Inter, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo pomeriggio. Ciao! Ciao!